Siamo molto orgogliosi di essere presenti come amministrazione qui all'inaugurazione di questa nuova attività produttiva che nasce sul territorio alcamese. Ovviamente per noi è sempre motivo di orgoglio quando degli imprenditori, noi abbiamo un tessuto imprenditoriale molto vivace, decidono di investire sul nostro territorio. Ancora più se l'investimento è rappresentato da qualcosa che a quanto pare non si vede molto di frequente, sicuramente nel nostro territorio si parla di un locale che paresse il più grande della sua specie in Italia. Quindi siamo veramente molto orgogliosi, auguriamo a questa attività di avere il giusto lancio che merita e soprattutto io ci vedo anche una finalità sociale, perché comunque dare la possibilità a un'alternativa di svago, di divertimento ai ragazzi li distoglie da un tipo di divertimento che sicuramente non è condivisibile, sicuramente da parte nostra e dell'amministrazione. Questa è un'alternativa di un'alternativa di un'alternativa. Grazie a tutti.